Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandici e Barberino, rallentamenti tra Fabro e Chiusi, in direzione Roma rallentamenti tra Valdarno e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico rallentamenti in direzione Roma tra il bivio con l'A1 e Badia, sul raccordo Lucca-Viareggio per Lavori in direzione Viareggio-Code tra il bivio per l'A11 e Massarosa. In A12 rallentamenti in direzione Genova tra Carrara e il bivio per l'A15 e tra Sarzana e Massa in direzione Livorno. In A15 in direzione La Spezia, code a tratti tra Aulla e il bivio per l'A12. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!